What's up guys, quello è il vostro Nate, chiedevi parla ragazzi, siamo trovati con un nuovo video, signori miei, video domenicale, voi dite ma nazionale ma che cazzo fai qua di domenica, ma non vai al mare, no non ci vado al mare, o meglio ancora no, tra poco, voglio pucciarmi, voglio bagnarmi, quindi visto e considerato che ancora non ci posso andare al mare, Sono qua per rispondere a una domanda, ci faccio un video raga ve lo spiego bene perché riguardante gli accessori nuovi, perché molti mi hanno detto nazionale ma come si sblocca, non riesco a sbloccarli, allora si raga non è proprio intuitivo al massimo, cioè in realtà lo è, però siccome il gioco è un po' strano, diciamo che viaggia un po' in totale autonomia senza necessariamente dover dare un input, Oggi vi spiego come sbloccare gli accessori e soprattutto perché sbloccare questi accessori, perché io vi dico il come ma vi dico anche il perché Ma prima di iniziare ragazzi ho il coach coin nazionale, molto importante per le lezioni che sto facendo, raga per migliorare su Warzone, delle impostazioni importantissime per migliorare la gancio, trovate tutto il link in descrizione, nel link sotto in descrizione appunto E in più raga i video in anteprima perché chi è abbonato vede i video in anteprima, tutti quelli che sto facendo vedere da questo a quello dell'STG a quello della mitraglietta erano disponibili qualche giorno prima Quindi chi è abbonato può anticipare i video, anche il video di domani per quanto riguarda i meta della season, le 5 classi tradizionali del nazionale del lunedì L'hanno visto anticipatamente nel weekend in modo tale di essere già pronti, se volete supportare il nazionale vi lascio il link sotto in descrizione Voi supportate il nazionale e il nazionale ovviamente contraccambia e aiuta voi Molto bene raga, nel riquadro in alto a destra sapete che c'è la sezione sfide, molto bene, la sezione sfide in questo caso nello sblocchi armeria Adesso raga hanno aggiunto un sacco di roba che sostanzialmente serve a poco perché sono oggetti cosmetici come potete vedere E il gioco di base non dà una priorità a meno che voi non la selezionate, di priorità vi dà questi sblocchi raga Sono emblemi, biglietti da visita che poi se vi piacciono sostanzialmente ve li sbloccate ma non vi cambia nulla averli o non averli Invece con gli accessori vi conviene averli Ha il problema che gli accessori non li trovate qua molto bene Dovete andarli a selezionare direttamente come quando andate a buildare un'arma Quindi proprio dalla sezione dell'accessorio in sé Molto bene, vabbè io adesso lo vedete io ce l'ho qua l'accessorio Prima di averlo qua, quindi prima di averlo sbloccato era esattamente in ultima posizione Quindi andate tutto a destra ve lo trovate in fondo a destra Mi verrà fuori un lucchetto con la scritta attivata Molto bene raga, voi schiacciate la X ok per metterlo in coda Schiacciatelo una volta raga perché ci mette qualche secondo a inserirsi nelle sfide Lo schiacciate una volta quando vedete la scritta attiva La scritta attiva sparisce molto bene E per avere la certezza che avete attivato ok questo sblocco Ve lo trovate in alto a sinistra ok nel menu delle giornaliere Precisamente in basso ragazzuoli Vedete io adesso un emblema Facciamo finta che volessi cambiarlo ok Perché questo emblema non mi piace Ok io seleziono questo Lo attivo E vedete che è cambiato ok Quando lo vedete esattamente in quel riquadro Vuol dire che lo state sbloccando Quindi le sfide che state per andare a fare Verranno conteggiate per quell'accessorio selezionato In questo caso per il silenziatore sono 8 sfide Poi vi dico anche come farle Sesto discorso raga vale per l'impugnatura Paracord ok Io adesso ce l'ho tra le prime Voi per cercarla andate sui sottocanna Andate per ultimo Lo troverete per ultimo in fondo a destra Quando ovviamente avete finito Non si possono mettere insieme Quando avete finito il silenziatore Selezionate il sottocanna Sempre lo stesso discorso Uscirà una scritta verde attiva Schiacciate Sparirà la scritta attiva Aspettate qualche secondo E ve lo troverete sempre in alto A sinistra nella sezione Riquadro delle sfide giornaliere Molti mi dicono Nazionale ma cosa devo fare per sbloccarle Allora Sostanzialmente avete delle sfide da fare Quindi in questo caso io ho 5 5 uccisioni operatori con mitragliatrici leggeri Quindi prendi il mitraglione Che ne so Vai su malloppo E fai 5 click con mitraglione Oppure completa 4 contratti Mentre gioco Completo i contratti Questo per quanto riguarda ovviamente Warzone Se volete accelerare Ok Tempisticamente lo sblocco Se avete il multiplayer Inutile che vi dica È molto più veloce Questo per dirvi anche Che ci sono delle missioni bonus Quindi non necessariamente Legate alle sfide giornaliere Perché come potete vedere Su Warzone Per fare un punto Quindi uno sblocco Come se fosse una missione Senza guardare quelle giornaliere Basta giocare Ok Giocare E arrivare Credo Entro la top 5 Ok In una partita di Warzone Che sia Urzigistan Che sia Ritorno Per avere uno sblocco Molto bene Poi chiaramente Se le combinate Alle sfide giornaliere In una partita Che ne so Arrivate in top 5 In più fate 4 contratti In più fate 4 kill Con le mitragliette leggere Ne fate 3 di punti Quindi Lì Bisogna un po' unire L'utile Al direttevole Quindi Se proprio Lo si vuole Sbloccare in fretta Si possono mischiare Le sfide giornaliere Con il posizionamento All'interno Di Warzone Ok In modo tale Da sbloccarlo In modo più veloce Contate che sono Sia per il silenziatore Sia per il sottocanna 8 sfide In realtà Non ci si mette Troppo Stesso discorso Raga Vale per il multiplayer Ok I multiplayer Sono diverse Sono più veloci Come potete vedere Siamo sulla selezione Multiplayer Se unite le sfide giornaliere Alla win Nella partita Sul multiplayer Farmate punti Perché anche qua In questo caso Sul multiplayer Per sbloccare Una sfida bonus Quindi Uno sblocco Basta vincere La partita Che state giocando All'interno Del multiplayer In questo caso Sul multi Chiaramente bisogna Vincerla Per avere Uno sblocco In più Ok Quindi Anche qua Potete fare Le missioni Le leggete E in più Cercate di vincere In modo tale Da avere uno sblocco In più Quindi Che ne so Fate tre sfide In una partita In più Vincete Sono quattro punti Ok Quindi siete già Alla metà Per arrivare a otto Molto bene Ma andiamo al succo Perché averli Questi accessori Raga Perché Sostanzialmente Per quanto riguarda Il silenziatore È veramente Un accessorio Come il prezzemolo Può essere Inserito Ovunque Ok Sia che si parla Delle mitragliette Sia che si parla Dei fucili d'assalto Barra mitraglioni Barra fucili da battaglia Questo perché Raga Perché Ovviamente Parlando di un silenziatore Ci silenzia l'arma Ok Quindi Non veniamo spottati E questo È un punto a favore Anche se tendenzialmente Non si è Non si è perso Un po' l'utilizzo Ma Visto e considerato Che abbiamo Questo accessorio Perché non sfruttarlo Anche perché Come potete vedere La questione Controllo Recoil È importantissima Perché Oltre a Sistemarci il gun kick Sistemarci il recoil Verticale Il punto a favore Va sul recoil Orizzontale Questo cosa significa Raga Che Sostanzialmente Togliendo il meno 23 per cento Quindi un quarto Del difetto Dell'arma Ci va A sistemare Verticalmente L'arma In modo tale Che L'ondeggiamento A zig zag Che può Che ha gran parte Delle armi Va a sistemarsi Nell'asse Verticale E quindi Automaticamente L'arma Risulterà Qualsiasi arma Risulterà Più facile Da utilizzare Quindi Che ve lo dico a fare Quindi va bene Sia per le mitragliette Sia per gli assalto Per gli assalto Ancora di più Ok Per le mitragliette Sì Magari su alcune mitragliette Magari anche no Però Comunque sia A prescindere È sempre Un valido Accessorio Da utilizzare Sulle mitragliette Sulle armi a lungo raggio Vi dico Usatelo su tutte Perché va bene Praticamente su tutte Per quanto riguarda Ragazzoli miei Invece Il sottocanna L'impugnatura Paracord Anche qua Abbiamo un accessorio Incredibile Adesso mi sposto Un attimo Ragazzuoli Come potete Vedere Oltre a Sistemare Anche questo accessorio Il recoilo Orizzontale Quindi Meno 15% E vi dico già Gran parte Delle mitragliette Soffrono Di recoilo Orizzontale Cioè Soffrono Perché Tendono A oscillare Con questo accessorio Togliamo una buona porzione Di recoilo Orizzontale In più Ci busta Tre aspetti Fondamentali Per l'utilizzo Delle mitragliette Ovvero La velocità di movimento La velocità di movimento In modalità mirino Quindi lo strafe E in più Anche Lo scatto A fuoco Quindi Quando si fa Lo scatto tattico La transizione Dallo scatto tattico Al puntare Molto bene E quindi Inutile Che vi dica Per quanto riguarda Il comparto Armi da cortoraggio È un accessorio Incredibile È chiaro che Raga Questo accessorio Già Se mi dite Su un fucile D'assalto Sì In realtà Vanno bene Anche sui fucile D'assalto Però Non è univoco Come silenziatore È più un accessorio Per quanto riguarda Le armi da corto Non che non vada bene Assolutamente Sugli assalto Però Sugli assalto Ci possiamo trovare Di accessori Migliori Ok Per l'utilizzo stesso Dell'arma Ragazzoli miei Spero di essere stato Delucidativo Perché Me lo avete chiesto In un milione Quindi ho cercato Di essere Il più sprecativo Possibile In modo tale Da farlo capire Un po' A tutti E ovviamente Duduloni miei Noi Ci vediamo Domani Con il prossimo Video Bella rega